Inedite, aggressive e soprattutto antivirali, sono queste le caratteristiche delle nuove maglie del Parma Calcio realizzate da RA Sport. Una maglia ricca di dettagli nuovi ed originali dal forte impatto combattivo. Vicino alla classica croce nera della parte anteriore, collo, spalle e maniche nere a simboleggiare le ali dell'Araba Fenice, emblema e simbolo di rinascita per un club che vuole continuare a volare. Le novità più importanti però sono nella realizzazione tecnica, come il filato T-Energy, studiato e realizzato dalla sezione ricerca e sviluppo di RA. Questo tessuto rivoluzionario è composto da nanoparticelle di ossido di zinco, incapsulate nelle fibre a forte tenuta antivirale e antibatterica. Testato in laboratorio e reso impermeabile grazie al trattamento Minus 9 J1, T-Energy costituisce un'efficace barriera protettiva contro droplet, virus e batteri in grado di aiutare a proteggere i giocatori in campo. La maglia è poi certificata, o Ecotex Standard 100, come tutti i capi RA. Tecnologia e tradizione dunque al servizio del presente e del futuro del Parma. Grazie a tutti.